Anticipazione imposta al sole. Giovedì 6 agosto 2020. Silvia è davvero stanca di vedere Rossella e Michele non muovere un dito in casa. Tutte le incombenze domestiche spettano a lei. Non ne può davvero più. E così cerca un modo suo di ottenere una maggiore collaborazione dai due. Resterà delusa? La piccola Irene inizia a risentire della separazione dei suoi genitori. Filippo e Serena capiscono di aver commesso un grave errore a separarsi. Riusciranno a concedersi una nuova possibilità? Patrizio non sa più a chi confidare i suoi turbamenti e alla fine si affida alla persona meno adatta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.